Inauguriamo questo mezzo che ci è stato gentilmente donato dall'associazione GS Drago qui presente abbiamo il rappresentante Celestino Razzini ringrazio tutti quanti voi presenti, ringraziamo l'assessore Giacomo Costantini per essere qui con noi, anche rappresentanza del comune ringrazio tutte le associazioni di volontariato afferente alla protezione civile perché questo mezzo che ci è stato donato ha una duplice veste per ragioni burocratiche e amministrative di Croce Rossa è inquadrato come mezzo per le attività di emergenza e quindi afferenti alla protezione civile vedete che è anche dotato dei dispositivi ottici e sonori per l'emergenza ma nello stesso tempo è anche un mezzo che verrà indicato per attività sociale e quindi anche per tutte quelle persone con diversità che collaborano e quindi praticano attività sportive per questo che ci vede accomunati con la stazione civile e sport che altro dire? ringraziamo ancora anche Alberoni per quanto riguarda per quanto riguarda la WISP e l'associazione di volontariato il CSFU GEV, quindi Lega Ambiente Guardia Costiera Ausiliaria Zarlot Mistral tutti quanti voi che siete qui grazie per la notizia grazie per il